bella vecchi drago per tornare qui sul canale di granassi e oggi siamo con la terza divisione contro Lewandowski che ovviamente ci verranno tanti gol per questa è la nostra bundes praticamente questa qua questa quasi tranne dei bruin il cazzo è della brua e li fanno la bundes e mettono dei bruin e quell'altro a centrocampo quell'altro chi è? un merino tanto nome sandro panci no e dobbiamo ancora fare una storia noi eh? si abbiamo fatto un pareggio e una sconfitta dai e zio meglio che va dai c'è dei palazzi mamma mia quanto sono rosso di fisico e il cune e il cune no perchè non mi cuore ma che mi cambia di tassi mi cambia di tassi odio compagni mamma mia un culo alla luna si e ti ho cambia di tassi è vero e va bene e lo lavora per quadrata e ti hai pensato al mezzo dietro come? va bene mamma mia dai a durè ma sta cimicolo durè guardalo la palla dietro arriva durè pam che fai? no io ho scopo il terreno di pietro che io parlo tu dietro guardalo mamma mia che fra un vada terribile pam non bella l'acquadrato non bella l'acquadrato mamma mia ma che fa l'ho dato che schemi che schemi ragazzi che schemi io lo volevo pegare dai lo fai ma che faccio lo fai ma non lo fai lo fai ma che culo non lo fai inutile ma che sono una perfetta vabbè eh ho capito lui c'ha più il fisico dei compagni non mi capi oh oh che fa mio che fa mio dai regalo il bus 2 Debrun il roscetto segna lui ah ha tantissimi diffusi sugli spazi guarda che culo guarda che culo ma quellolla cosa sta cominta compisate la potenza sono Ford mamma mia daria subito non ci stiamo non ci stiamo a perdere se ti prende a cuore Mh H dei piedi guarda un po me ben rallenta per non andare in pole di gioco e poi boom la botta eccerno sul secondo palo e fallo verdi maria potacci buono buono rigore rigore per noi rigore per noi bambino ha distrutto ne ha devastato ne ha uccidito il rigore da vicomacca dei sessuali 3 a 1 ma dai lei con il mamma mia bestia è la palla perfetta bellissima e buonissima la palla no fisico del merda nooo capito me rossi chiaro che era chiaro che era una cosa sottotitoli italiani oh l'occasione e' lui sei soltanto e' levandoski con un numero preferito tu poli con l'undici dovresti essere contento vabbè a carne erradica però dai metti subito boom il gioco poco tu e' poco il gioco il mongoloide non è mai 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 sergio 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 taccino taccino soltanto il visto il caso forex arrucca la porta da fuori confuso tom can 24 2 2 no perché cazzo perché fa queste cose oddio no vabbè sta a scaricare completamente scarico oh guarda oddio vabbè c'ho già il stick scarico quindi sto tipo vicino al filo e non vedete oh oh finita finita l'altro pareggio del merda altro pareggio del merda e putamo wish vabbè bello grazie 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 grazie